Pasquale Cordome, i comuni di Montesimano e Spoltore, ma anche la sua associazione Montesimano Città per sempre, oggi tornano a ribadire un no forte alla costituzione della nuova Pescara. Un no che però non è precostituito, un no che parte da diverse ragioni, sia di impatto economico sia di impatto sociale. Assolutamente, ho spiegato che non è un no che parte da motivazioni esclusivamente campanilistiche, ma è un no che ha delle motivazioni politiche e un no che salvaguarda i cittadini che oggi hanno un'imposizione tributaria e fiscale pari a 450 euro per il comune di Spoltore, pari a poco più di 550 pro capite per il comune di Montesimano e il Pescara si paga più di 750 euro. Ecco, questo è già un primo dato. Pescara è in una condizione di predissesto, ogni anno parte da meno 3 milioni e 7, quindi non può investire, non può contrarre muti se non dopo aver pagato o saldato questa quota di passività. Ecco, i cittadini di Montesimano e Spoltore non possono farsi carico di errori compiuti nel passato da chi oggi è a favore della nuova Pescara. Oggi se vogliamo dire no e dare un senso a questo no, dobbiamo fare qualcosa affinché quella legge non abbia più validità. E il passaggio successivo è la proposta di abrogazione di quella legge attraverso una proposta di legge che sarà portata in consiglio regionale da un consigliere regionale stesso. Ultima cosa, la nuova Pescara prevede la nascita di un comune unico sui 200 mila abitanti. Voi ritenete che se bisogna fare questo passaggio bisogna inglobare altre realtà, altri comuni per essere una nuova realtà da oltre 250 mila abitanti? Lì ci sarebbe una differenza? Allora, pochi sanno o fanno finta di non sapere che le città metropolitane, oltre che essere sancite per decreto ministeriale, possono partire da un numero di abitanti di 250 mila. Per cui se dobbiamo fare un progetto serio, importante, di ampio respiro, noi partiamo da questo no per proporre una città vera, metropolitana, che consiste in un progetto che veda dentro anche San Giovanni Tattino, prenda dentro Sivi, prenda Francavilla e non dimentichiamo che è un'infrastruttura così tanto importante come l'aeroporto di Pescara e a metà strada tra il comune e la provincia di Chieti e Pescara. E questo credo sia una cosa che vada corretta.